Dopo l'incendio divampato all'interno di una abitazione di agrigento, l'intera palazzina fra le vie Formica e Ortolani, nel centro storico cittadino, è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco, sgomberate dallo stabile tre persone. Si tratta di un 51enne che vive da solo e che nel ruogo della sua casa ha perso tutto, un 62enne disabile residente all'ultimo piano dell'immobile e un altro agrigentino che si è ritrovato l'appartamento a piano terra allagato e con il soffitto e i muri di casa gravemente rovinati dalle infiltrazioni d'acqua, mista a cenere. Nel ruogo il 51enne e il disabile hanno rischiato grosso. Ad evitare una tragedia è stato il personale della Guardia di Finanza, della Compagnia Cittadina e i vigili del fuoco. Grazie a tutti.